E oggi si mangia a casa, si mangia a casa e mio marito ha deciso di fare un po' di spaghetto perché lui voleva andare a mangiare fuori. Ah, di domenica, pranzo, namastare a casa. Sì, sì, io mi sentivo. Mi noio, mi noio. Non è che per forza perché oggi è domenica se deve uscire. Se mi voglio rilassare io mi sento stanca. E ogni sera, ogni sera fuori. E tutti io hanno a piedi piedi, basta, arrivai. Oggi mi voglio rilassare a casa. Gli ho detto facciamo un po' di pasta. Abbiamo deciso di comprare sugo allo scoglio. E lui fice sta mega ricetta. Sugo allo scoglio, già pronto. Quando io ho un cipriato con gelato, messo in padella, un po' di olio, una pentolina con un po' di acqua per metterci a pasta. Siamo tutti e due da soli. Non c'è nessuno. Danieluccio ancora domenica. Gli altri due a mare. E se, ma a posto, a postissimo. Ci disti novi, ricca la pasta te la stai mangiando. Lo stesso la pasta con i frutti di mare. Che fa, picchi su congelati? Boni su! Bellissimo il sugo allo scoglio congelato. Viene la fine del mondo. Ci sono i gamberetti, ci sono le gozze. Bellissima, bellissima. E oggi si mangia questo.